Prima continuavano a parlare di un meme, parla del meme di... Della metropolitana No, anche quello, poi Poldo Ah sì sì, Poldo è uno streamer, contact creator, fanno anche video su YouTube Ma ci hai scazzato? No 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 no, in maniera molto serena, lui ha preso un meme, un creepypasta, vecchissimo, avrà forse 15 anni addirittura Che era... su cui tra l'altro loro faranno un film Ma va! C'è un trailer, Nicolas Cage è l'attore tra l'altro Quindi super, ancora più meme E si chiama Have you ever dreamed this man? Quindi hai mai sognato quest'uomo? Perché c'era questa diciamo diceria che tutti sognavano lo stesso uomo in un certo periodo E quindi hanno fatto un edikit di questo uomo e avevano fatto delle affissioni di questa persona Poldo l'ha preso in live un paio d'anni fa, questo robettino, e ci ha messo la mia faccia In bianco e nero Magari l'ho visto allora Ma hai visto sicuro? Allora, non lo so, può essere Solo che un creator normale vede che uno streamer mette sulla sua faccia e dice Bomba, ha messo sulla mia faccia Invece Surry racconta cosa hai fatto No vabbè, io ho imparato nel corso degli anni che su internet È giusto cavalcare l'onda? Sì, ma senti cosa ha combinato sto uomo Praticamente nella foga un po' così del momento Ho detto ma chissà Poldo non lo conoscevo, ho visto la clip Dovete considerare che mi stavano arrivando ad un certo punto migliaia di tag al giorno Di gente che mi attaccava in giro Cioè c'era la mia faccia in giro In tutte le scuole, le scuole d'Italia Tutt'ora mi arrivano immagini della mia faccia attaccata in giro Poi ho smesso di parlarne troppo Perché comunque la fissione Se tu la promuovi Esatto, poi diventa una roba tipo Aspetta, quindi è promozione Poi non c'è il mio nome Quindi in realtà no E non l'ho ideata io Però ho smesso di parlarne troppo Perché comunque Cioè è una fissione illegale tutti gli effetti Perché la fissione è illegale solo quando è tipo Piccola così, tot centimetri Una roba del genere Vabbè comunque c'è stato un periodo Tipo 4-5 giorni In cui mi avevano migliaia di storie E direct Con la mia faccia in giro Nelle scuole, nelle classi Le lavagne multimediali In giro attaccate ai pali Nelle chiese Ovunque E sì Mi è arrivato uno Che forse ce l'ho salvato da qualche parte Aveva attaccato Bruttissimo chiaramente Mi dissocio da questo gesto Ma su una lapide No Poi non c'era il nome né nulla Quindi neanche da ripercorrere La destinazione del tutto Però insomma Davvero le cose più disparate Ho detto vabbè Diamo una fine Dignitosa a questa cosa Che poi non è finita Però nel mio Volevo dare una fine dignitosa a questa cosa Ho detto Dimostriamo che su internet E' La cosa più sbagliata che puoi fare E' come frenare sulla neve fresca Cioè poi slitti via E' finita Devi cercare solo di virare In la direzione giusta Allora ho preso Mi sono fatto passare il file da pollo Ho chiamato un'agenzia di comunicazione Ho comprato le affissioni della metro di Milano E quindi ho attaccato il poster Nelle metro di Milano Ma si può sapere quanto hai speso per sta cazzata? Non tantissimo Perché l'ho preso last minute L'avrò speso tipo intorno ai 10.000 euro Per quanto? Poco più di 10 giorni Due settimane Due settimane Sì però bro Allora mi ricordo il video Dove raccontava questa cosa Ah io per curiosità Perché ho detto Vabbè può essere anche un esperimento Vedere quanto è efficace Allora del genere Esatto Allora mi avevano taggato tantissime persone Quindi sicuramente awareness ce n'era Il problema era la conversione Io sotto lì Non avevo messo link Non avevo messo niente Avevo messo semplicemente Il Un QR code Che portava Un link Forse al mio canale YouTube Ma Random L'avevo messo perché Era un bit lì E quindi potevo vedere Quanta gente la cliccava E in due settimane Si aveva fatto qualche migliaio Di roba Ma poco In confronto alla spesa Però c'è da dire che Mi ricordo appunto il video Dove eri tu stesso Andato in metro a cercarlo C'erano Però non è che C'era un immaginarti C'era un metro con sopra Surry Capito C'erano alcune metro Non in tutte Però tu entravi Magari ti trovavi il pannello Non è tipo Sì qua Club Dogo Quando fanno i release degli album No Che traventivo tutto Però capi c'è io A me l'idea di Surry Che si sveglia la mattina Dice ma sai cosa Esplosa sta roba Ma spegniamo Non moltissimo Per Vabbè comunque sai Per me era Una spesa promozionale Ma certo Ma voglio dire Hai cavalcato l'onda C'hai fatti i video Esatto Per me comunque Era passaparola Comunque Anche se non era Un'idea mia Nel mondo Degli influencer Che poi è sempre Una roba da prendere Con le pinze Però quando parli Di qualcuno E non è una cosa negativa È una cosa molto positiva Perché di solito Cioè il passaparola È molto più facile Che sia negativo Che positivo Certo Quindi poi Quando Ah guarda c'è la fissione Ah ma hai visto Surry Cosa ha fatto L'ho messo lì Quello per me È una campagna pubblicitaria Anche se non ho avuto Un riscontro economico Diretto È una campagna pubblicitaria Che ha avuto effetto Perché si è parlato di me Si è vista la mia faccia Nel senso Cos'altro potrei chiedere Che ha avuto effetto Grazie a tutti.